Sono entrati nel vivo i lavori condotti da A2A per l'ammodernamento degli impianti idroelettrici in Valle Spluga. I lavori alla diga di isolato nel comune di Madesimo, iniziati lo scorso 9 gennaio, proseguono con particolare attenzione agli aspetti ambientali, monitorati costantemente dal gestore e dagli enti competenti Regione Lombardia, ARPA e UPS. Inizia ora la fase caratterizzata dall'illavorazione di elevata caratura tecnico-ingegneristica per ammodernamento e rinnovo impiantistico della diga e dei relativi organi di presa e scarico, così come autorizzati. In linea con le tempistiche di progetto, ecco l'arrivo in cantiere di due nuove valvole a farfalla di circa 2,5 metri di diametro ciascuna, che andranno a sostituire il precedente organo di chiusura, giunto ormai a fine vita tecnica, destinato a intercettare i flussi idrici della galleria di derivazione verso la centrale di produzione di Prestone a Campodolcino. Le valvole prodotte da un fornitore italiano saranno posizionate nelle viscere della montagna attraverso un pozzo alto 30 metri dalla spalla sinistra della diga, un percorso già utilizzato durante lo smontaggio della valvola obsoleta avvenuto nei giorni scorsi. Continuano inoltre le attività di escavazione e asportazione dei sedimenti accumulati nei decenni passati nelle aree più strategiche a ridosso dello sbarramento, senza alcun impatto sulla qualità dell'acqua dell'Iro, a cui si aggiungono quelle finalizzate all'ammodernamento delle componenti nascoste dell'impianto per migliorarne funzionalità e sicurezza.